Agenti della squadra mobile di Siracusa hanno arrestato due giovani di 24 e 19 anni colti nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. I due, insieme ad altri soggetti, sono stati controllati a bordo di un'autovettura. Il 24enne, che ha tirato l'attenzione dei poliziotti, è stato trovato in possesso di un mazzo di chiavi di un'abitazione nella sua immediata disponibilità, dove è stata effettuata una perquisizione che ha consentito di rinvenire 12 panetti di hashish, un involucro di marijuana del peso di 9 grammi, materiale utilizzato per il confezionamento dello stupefacente e la somma di 170 euro, probabile provento dell'attività di spaccio. Nei confronti del 19enne è stata invece effettuata una perquisizione domiciliare presso la sua abitazione che ha consentito di rinvenire 75 grammi di marijuana e materiale per il confezionamento delle dosi. I due giovani sono stati pertanto posti in regime di arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida. Nel medesimo contesto operativo sono stati denunciati un altro giovane, proprietario del primo appartamento perquisito, e un ventenne, entrambi conosciuti alle forze di polizia. Infine, nel corso di un'ulteriore perquisizione svolta nell'appartamento di fronte al primo, è stato denunciato sempre per reati inerenti agli stupefacenti e per detenzione abusiva di munizionamento, un giovane di 25 anni, anche gli conosciuto alle forze dell'ordine, trovato in possesso di 3 grammi di hashish, materiale utile al confezionamento della droga e tre cartucce calibro 7,65. Gli agenti del commissariato di Ortigia, infine, hanno arrestato un ventunenne sempre per detenzione ai fini dello spaccio di droga, essendo stato trovato in possesso di 440 dosi di crack, un bilancino di precisione e vario materiale utile al confezionamento dello stupefacente.